In La Molise in terza posizione tra le regioni italiane per rischio idrogeologico, il dato del Ministero dell'Ambiente era riferito ad un monitoraggio effettuato nel 2001. Da allora la situazione è ulteriormente peggiorata, basti pensare che attualmente sono attive 8.800 frane per le quali la regione ha già chiesto fondi per 37 milioni di euro. Dal Senato proprio in queste ore è arrivato l'importantissimo via libera alla mozione presentata dal parlamentare molisano del PD Roberto Ruta sulla difesa del suolo e che considera la tutela del territorio e la difesa idrogeologica la priorità assoluta per il Paese e considera la vera grande opera infrastrutturale proprio la messa in sicurezza del territorio italiano estremamente fragile. Ma per realizzare questa possente operazione il Governo sarà chiamato a prevedere nel triennio 2015-2017 le risorse necessarie, stimate in 3 miliardi, 1 miliardo all'anno, che dovranno essere escluse dal patto di stabilità. Per il Molise si tratta di una occasione importantissima da cogliere, dichiarato Roberto Ruta nel corso della conferenza stampa organizzata nella sede regionale del PD potrebbe beneficiare di 20 milioni di euro oltre a quelli già a disposizione della regione. Una serie di opere da realizzare sotto l'attento monitoraggio di una task force di esperti, professionalità già presenti nel Molise che vanno formate e coinvolti in questo progetto, ha aggiunto il senatore, un progetto nel quale giocherà un ruolo strategico la protezione civile con tutte le sue articolazioni a livello locale. Parole che vogliono dire anche rilancio dell'Agenzia regionale di protezione civile che il Governo Frattura sta smantellando. Un progetto organico che passa attraverso una serie di interventi, l'impegno del Governo italiano a favorire nel corso del semestre di Presidenza europea della chiusura del negoziato sul pacchetto 2030 con l'obiettivo di ridurre le emissioni del 40%. Ed è stata definita commovente da Ruta la tempestività dell'approvazione la notte scorsa da parte dell'Europa della riduzione proprio del 40% delle emissioni. Una svolta culturale ha detto Ruta un cambiamento degli stili di vita a cui anche il Molise è chiamato a rispondere. La regione deve essere pronta e l'ultima occasione che si presenta.